Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, quello lassù, in fondo, è Alexander Legs che si è perso nel deserto e sta cercando le 10 crypto con cui svoltare nel bull market. Siamo qui nel deserto, non è facile trovarle, però se volete anche voi sfruttare questo momento storico sulle crypto, questo è aprile ragazzi, è il mese dell'alving. Ok? Dopo, diciamo che è detta in modo semplice, l'offerta di bitcoin diminuisce, ok? L'offerta di bitcoin diminuisce. Quindi, il prezzo, di solito, dopo l'alving, l'anno dell'alving, che è una volta ogni... è ciclico, ogni 4 anni, diciamo l'ultimo... diciamo il bull market avviene dopo, quindi nel 2024, aprile 2024, cioè l'alving, le crypto dopo, qualche mese dopo l'alving. La seconda parte del 2024, guardate come le cerca, è disperato, sta cercando le sue shitcoin. Quindi, che succede? Qualche mese dopo l'alving, boom, parte il bull market, quello serio, l'alt season, le coin cominciano, le altcoin, a fare 100%, 200%, 300%, robe che nel mercato tradizionale, la finanza tradizionale, te lo sogni, puoi prendere 1000 euro e trasformarli in centinaia di migliaia di euro. è fattibile, la gente lo fa, è successo, però la maggior parte delle persone si fa male, perché arriva all'ultimo, arriva alla fine e quando la notizia è di tutti, chi magari era già dentro ha venduto e poi compra cose senza sapere cosa sta comprando, allora fatti furbo questa volta. In descrizione trovi la presentazione di un servizio di Alex, della TheServe Academy, voi sapete che io sono dentro, abbiamo costruito dei portafogli, siamo posizionati, però quel servizio è chiuso, però ne hanno aperto un altro, stanno creando un nuovo wallet, si chiama il servizio Gold & Shitcoin, è sempre un gruppo Telegram, dove riveleranno le 10 crypto ad altissimo potenziale, che le acquisti adesso e a fine dell'anno possono fare numeri pazzeschi, almeno questo è il loro piano, lo faranno e hanno creato questo gruppo Telegram dove condividono quelle crypto. Ora se tu le vuoi conoscere devi entrare in quel gruppo, si paga, se lasci nel link in descrizione la tua mail ti arriva la presentazione e poi tutte le istruzioni per abbonarti, oppure c'è anche un modulo dove puoi compilarlo e direttamente io ti ricontatto e facciamo una call su Whatsapp. Gli ultimi posti a 997 USDT ancora disponibili, entri dentro e ricevi tutto il materiale, le live, le crypto, diciamo quando le comprano i segnali ne rilasceranno due al mese, puoi avere tutto questo a 997. Guardati la videopresentazione e poi acquista se vuoi cambiare la tua vita con le crypto. Io vado a recuperare Alex che ha perso le sue crypto nel deserto, tutti i link sono in descrizione, ci vediamo dentro, ciao!